Krishna Krishna rende note ad Arjuna le regole dello yoga che prescrivono il raccoglimento e il non attaccamento. Lo yoga non è per chi mangia troppo, né per chi non mangia affatto, non per chi dorme troppo, né per chi rimane sempre sveglio. La regola è di trovare il giusto equilibrio fra i pasti, i riposi e gli sforzi dell'azione, in perfetto distacco sia dal caldo che dal freddo, dal piacere e dal dolore e perfino dall'onore e dal disonore. E quando si è ottenuto tale vantaggio, non si desidera null'altro. Fissati in questa condizione, nessun dolore ti scuoterà, anche se grave. Non capisco come questo yoga dell'equanimità possa stabilirsi in modo durevole, o Krishna, perché la mente è incostante, ostinata, tormentata, è come il vento e sembra impossibile da soggiogare. Hai ragione, o guerriero dalle grandi braccia. La mente è un organo difficile da dominare. Essa è fluttuante, ma la si padroneggia solo mediante la pratica assidua dello yoga e l'esercizio del distacco. Ma qual è il destino di colui che, pur avendo la fede, è incapace di questa tensione ascetica? Non andrà ramingo, incerto, smarrito, sul cammino della ricerca del Brahman? Ho questo dubbio, Krishna. Aspetta a te reciderlo completamente. Nessun altro oltre a te è in grado di farlo. Né in questo, né nell'altro mondo, un uomo simile andrà perduto, o Arjuna. Perché non c'è nessuno che, mio caro, abbia commesso buone o cattive azioni e incorre in un cattivo destino. Colui che ha fallito nello yoga rinasce presso il focolare di gente pura e di qui riprenderà con maggior vigore la disciplina dello yoga. Anche se non lo vuole, egli è trascinato in avanti. Krishna va oltre nell'insegnamento della disciplina contemplativa. Utilizza il concetto di conoscenza intuitiva dell'assoluto. E quest'assoluto è Krishna stesso, presente in tutte le cose del mondo, anche nelle divinità demoniache chiamate Asura. Invita Arjuna a conoscerlo come l'imperituro, ma soprattutto come guru, maestro. Negli ambienti devozionali induisti, questo insegnamento sta alla base di tutti i culti dei guru, normalmente assimilati a divinità incarnate. Gli uomini sbarriti mi disconoscono perché ho scelto un corpo umano. Essi non riconoscono la mia essenza suprema, né vedono in me il sovrano Signore degli esseri. Io sono il padre di questo mondo dei viventi. Sua madre, il suo fondatore e il suo avo, il purificatore, la sillaba om, la stanza, la melodia e la formula sacra. Io sono il fine, il sostegno, il testimone, la dimora, il rifugio, l'amico, l'origine, il dissolvimento, la permanenza, il germe, l'immutabile. Sono l'essere e il non essere. I devoti di altre divinità, che con grande fede onorano con sacrifici, in realtà onorano me, il sovrano Signore. Colui che m'offre con devozione anche una sola foglia, un fiore o dell'acqua, con cuore puro, io l'accetto, o guerriero dalle grandi braccia. L'affermazione di Krishna è la base devozionale di tutti i culti hindu, dall'India a Bali, dove le civiltà sono cresciute con le offerte votive di fiori, frutta, incenso e acqua benedetta, e una grande tradizione di tolleranza verso altri culti e altre religioni. A questo punto, Arjuna desidera dissolvere i suoi dubbi e le sue esitazioni, e chiede a Krishna di descrivergli tutte le sue forme divine. Ti esporrò le mie divine manifestazioni, limitandomi solo ad alcune, perché la mia espansione è illimitata. Io sono fra gli astri il sole, e fra i corpi celesti la luna, fra le cime il monte Meru, fra le acque l'oceano, fra le parole la sillaba unica, fra i sacrifici io sono le parole mormorate, fra gli esseri immobili l'Himalaya, fra le armi io sono il fulmine, il leone fra gli animali selvatici, delle creature io sono l'inizio, la fine e il mezzo, la scienza del sé fra le scienze, io sono la morte che tutto porta via, fra gli esseri femminili, io sono la fama, la fortuna, la parola, la memoria, l'intelligenza, la fermezza, la pazienza, fra gli ingannatori, io sono il gioco dei dadi, io sono la vittoria, la decisione, la virtù dei virtuosi, e quale che sia la forma di qualunque essere, io sono, non vi è essere, mobile o immobile, non vi sono limiti, alle mie divine manifestazioni, o tormento dei nemici, ma io ti ho fatto questa lunga esposizione, come un esempio, ogni essere che abbia una manifestazione di virtù, di prosperità o di forza, riconoscilo come scaturito da una particella del mio splendore, o piuttosto, che bisogno c'è di una tale abbondanza di sapere, Arjuna, immutabile, io sono presente a questo intero universo, ti ringrazio per questo segreto discorso, per opera di esso, lo smarrimento da cui ero preso sta per svanire, Signore Supremo, Spirito Supremo, le cose stanno proprio come hai detto, io però desidero vedere la tua forma, se pensi che sia possibile che io la veda, allora mostrami il tuo essere inalterabile. Arjuna, s'è posto nella massima condizione contemplativa, e da questo luogo inimmaginabile, può vedere tutto ciò che Krishna è e non è, Krishna offre al Pandava la visione sintetica di tutte le forme elencate in precedenza, e numerose altre, divine e terrene. Lo fa su sua richiesta, sottolineando che si tratta di un favore assolutamente insignia, al quale in questo mondo, nessuno può accedere. Arjuna sarebbe del tutto incapace di sopportare una simile visione con il solo sguardo umano, e dunque il Signore Krishna gli concede per un momento lo sguardo divino. Ti vedo, e vedo pure tutto il mondo in un solo punto. Tutti i guerrieri si gettano nella tua bocca, e tu li frantumi tra i tuoi denti. Desiderano essere distrutti, e tu li distruggi. Attraverso il tuo corpo vedo le stelle, vedo la vita, la morte, il silenzio. Dimmi chi sei. Sono precipitato giù negli abissi. Ho paura. Sono tutto ciò che pensi, tutto quello che dici. Ogni cosa è appesa in me, come le perle alla collana. Sono il profumo della terra, il calore del fuoco. Sono ciò che appare e ciò che scompa. Sono la beffa dell'imbroglione. Sono la luce di tutto ciò che splende. Sono il tempo invecchiato. Tutte le cose sprofondano nella notte, e poi risorgono alla luce. Ho già sconfitto tutti questi guerrieri, ma chi crede di uccidere e chi crede di poter essere ucciso sbaglia comunque. Nessun'arma può trafiggere la tua vita, nessun fuoco bruciarla, nessun'acqua affogarla, nessun vento può asciugarla. Non temere più, perché ti amo. Conquista la gloria, o guerriero dalle grandi braccia. Trionfa sui tuoi nemici. Godi di un regno prospero. Tutti i guerrieri sono stati da me prima votati alla morte. Sì, ne è lo strumento, e niente più. Non tormentarti. Combatti. Tu vincerai i tuoi rivali in questa battaglia. Ora puoi dominare il tuo misterioso e incomprensibile spirito. Puoi vedere il tuo lato nascosto. Agisci come devi agire. Io stesso non resto mai senza agire. Alzati. Arjuna, dopo queste parole, spaventato e tremante, saluta Krishna con le mani giunte in segno di omaggio. E inchinandosi, si scusa per tutte le volte in cui, considerando il Signore Assoluto come un compagno d'arme, si è rivolto a lui con confidenza cameratesca. Ora, dopo la visione divina, si accorge che in realtà il suo cocchiere altri non è che l'incommensurabile, il maestro degno di adorazione, il creatore di tutte le cose. Arjuna è atterrito e prega al Divino di mostrarsi ancora nella sua forma umana. Krishna lo accontenta. Non tremare, non cadere nello smarrimento alla vista di questa mia forma terribile. Libero da timore, con mente lieta, contempla nuovamente questa forma umana che è veramente la mia. Vedendo questa tua benigna forma umana, Janardana, ritrovo ora il coraggio e rientro nel mio stato naturale. Tu hai visto quella mia forma così ardua a vedersi. Gli stessi dèi aspirano a contemplarmi in quella forma. Né i veda, né le austerità, né le elemosine o i sacrifici permettono di contemplarmi sotto la forma che hai visto. Soltanto una devozione fissata su me rende possibile conoscermi e penetrare in me realmente. Colui che mi dedica le opere che compie, colui del quale io sono il fine supremo, devoto a me, libero da ogni attaccamento e da ogni ostilità verso tutti gli esseri. Questi viene a me, o Pandava. Arjuna chiede allora quali siano i migliori esperti nello yoga in grado di onorare Krishna e come si faccia per riconoscerli. Il Pandava vuole sapere perciò come sia possibile mantenere salda la fede in un assoluto imperituro che, al di là di tutte le sue manifestazioni, è totalmente un'entità astratta. La tradizione induista per voce di Krishna sottolinea a questo proposito l'importanza dell'aspetto affettivo nella conoscenza dell'assoluto, il suo valore psicologico. È più facile onorare un assoluto personale che uno impersonale. Sta in questo affetto tutto umano il successo della devozione nei bramini, nell'induismo, e della fiducia nei bodhisattva, nel buddismo. Krishna passa quindi ad elencare le virtù necessarie per l'uomo saggio, per l'uomo che incarna il Brahman. Praticare modestia, franchezza, non violenza, pazienza, rettitudine, servizio del maestro, purezza, costanza, padronanza di sé, distacco dagli oggetti sensibili e distanti. Constatare le deficienze e i mali inerenti alla nascita, alla morte, alla vecchiaia e alla malattia. Astenersi dall'attaccamento appassionato verso i figli, verso la sposa, la casa o qualsiasi altro possesso. Mantenere una costante equanimità verso gli avvenimenti, siano esse in accordo o in disaccordo con i nostri desideri. Dedicarsi senza errori alla devozione verso la mia persona, ricercare i luoghi ritirati, applicarsi permanentemente alla conoscenza di sé, intuire ciò che significa reale. Ecco ciò che viene detto conoscenza e tutto il resto è non conoscenza. E non c'era ora quel conoscibile che rende immortali, il Brahman senza inizio, supremo, che è essere e non essere. Dovunque esso ha mani e piedi, dovunque occhi, teste e bocche, si erge nel mondo e sviluppa tutte le cose. esterno e interno agli esseri, immobile e mobile, a causa della sua leggerezza è incomprensibile, è lontano e vicinissimo. Indivisibile si presenta come diviso, conservatore degli esseri, egli è il grande divoratore, è detto luce delle luci, al di là delle tenebre, esso è il fine e il mezzo della conoscenza, è la conoscenza, egli dimora nel cuore di ciascuno. Liberati dall'orgoglio e dall'illusione, sbarazzati dei desideri, liberati dalle coppie dei contrari e accederai al Signore immutabile. Stabilitosi nell'occhio, nell'orecchio, nel tatto, nell'odorato e nella mente, il Signore fa uso degli oggetti sensibili. Che esca dal corpo o invece vi soggiorni e fruisca del sensibile, le persone sviate non lo intendono, ma coloro che possiedono l'occhio della conoscenza lo vedono. Krishna continua la sua descrizione della condizione divina e di quella demoniaca, la condizione degli asura. Tutto il suo discorso è volto a respingere l'ateismo e tutto ciò che si avvicina al materialismo. Le prescrizioni del maestro sono orientate verso una totale disciplina degli appetiti umani, condizione ultima per la contemplazione del Brahman. Le persone asuriche non conoscono né le regole dell'azione né quelle della non-azione. Esse professano che l'universo è senza realtà, senza fondamento, senza un signore sovrano, senza coerenza reciproca fra gli elementi del reale. Contando soltanto sul desiderio, sull'insaziabilità, dotati di falsità, di orgoglio, di passione, per effetto di questo smarrimento adottano un comportamento malvagio e costumi impuri. Inchiodati da una inquietudine logorante che a termine solo con la morte, avendo come fine ultimo il godimento degli oggetti del loro desiderio, convinti che questo sia la misura di tutte le cose, incatenati da una moltitudine di speranze intralcianti, essi si adoperano per accumulare ingiustamente ricchezze. Ho acquistato questo oggi, otterrò quello, ho molti beni, ma ne avrò molti di più, ho ucciso questo nemico, ne ucciderò ancora degli altri, io sono il padrone, ho raggiunto il successo, sono forte, sono felice, sono ricco, chi altri è al mio pari? Questo dicono nel loro smarrimento e non si accorgono che cadono nell'inferno impuro. Questa è la triade che porta all'inferno, di bidine, collera e cupidicia. O figlio di conti, l'uomo che è scappato a queste tre porte delle tenebre si avvicina al suo bene, arriva al fine ultimo. Krishna sta molto attento a spiegare ad Arjuna che comunque la via della disciplina e dell'azione non è basata su un'eccessiva austerità. Certamente è necessario seguire le raccomandazioni dei testi sacri, ma senza esaltazione, senza esagerazione. Il tipo di devozione propugnata dalla Gita è una via di confidenza e non di sforzi penosi, di sacrifici e di doni disinteressati e di un moderato piacere e benessere nelle cose. Arjuna chiede di conoscere quale sia quindi la vera natura della rinunzia e dell'abbandono e Krishna risponde enumerando le qualità naturali che insieme col destino, che potrebbe anche essere interpretato come il caso, sono all'origine di ogni conoscenza e conclude sottolineando l'importanza del rapporto fra l'assoluto e il cuore. Il Signore è il cuore stesso di ogni essere e il cuore dell'intero universo. Si arriva così alla conclusione del diciottesimo e ultimo canto della Bhagavad Gita. E chi apprenderà a memoria questo dialogo santo che ci siamo scambiati, considero che mi abbia adorato col sacrificio della conoscenza. E anche l'uomo che si contentasse di ascoltarlo con fede e senza prevenzione, anche quello sarà liberato e accederà ai mondi di coloro che hanno compiuto opere meritorie. Il mio smarrimento si è dileguato. Grazie a te, o Krishna, ho ritrovato la mia presenza di spirito. Eccomi in piedi, liberato dal dubbio. Eseguirò il tuo comando e darò inizio al combattimento. Così Arjuna si accinge a soffiare nel corno sacro l'inizio della grande battaglia di Kuruksetra che vedrà dopo innumerevoli sofferenze e atrocità i Pandava vincitori sui Kaurava. Il Mahabharata non finisce però con la vittoria dei Pandava. È solo la conclusione di un ciclo e i Pandava non otterranno il paradiso ma altri cicli si ripeteranno e il contrasto fra azione disinteressata e perseguimento del frutto dei propri atti permarrà in interrotto interrogarsi degli uomini sul significato della vita. In verità il vero campo di battaglia così come appare dal dialogo della Ghita è il proprio individuale spirito. Ander! 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 Grazie a tutti.